Chiara Ferragni, vittima o colpevole? La vostra opinione conta. Commentate e iscrivetevi per un dibattito acceso. Chiara Ferragni ritorna nel mondo virtuale, ma il clamore non accenna a placarsi. 3 gennaio, un giorno che segna il suo ritorno su Instagram con un box domande. Un semplice, come state, ai suoi follower, un gesto di normalità che si trasforma in un vortice di polemiche. Il caso del Balocco Gate continua a dividere l'opinione pubblica. Tra i salotti televisivi e i social, le voci si alzano, alcune accusatorie, altre difensive. Se rubo 10.000 euro, mi aspettano tre anni di carcere senza condizionale, afferma Andrea Pinna. Chiara Ferragni? Trent'anni, e tutti i beni confiscati. E voi, che ne pensate? È un paragone giusto? Fateci sapere nei commenti. Flavia Vento non è meno critica, fare beneficenza e non dare i soldi è da galera. Parole dure, che toccano il cuore del dibattito. Ma non tutti sono pronti a condannarla. Elisa Dospina prende le sue difese, denunciando la violenza e il bullismo verso Chiara. E tu, da che parte stai? Unisciti al dibattito, iscriviti al canale e lascia un like per supportare la libera espressione. Se fosse una persona comune e non una celebrità, la vostra opinione sarebbe diversa? La fama giustifica un trattamento diverso? La vicenda di Chiara Ferragni ci pone di fronte a questioni di giustizia, fama e moralità. Ma la questione più importante rimane. Cosa ne pensi tu? Lascia un commento, e non dimenticare di iscriverti per non perdere i prossimi aggiornamenti.